Salve a tutti, come va? Spero vada tutto bene. Oggi voglio farvi un video sui profumi freschi, refrigeranti, agrumati, aromatici, più belli della mia collezione. Quindi oggi abbiamo una bella selezione anche prodotti che variano decisamente di prezzo. Cominciamo con il primo profumo e di questo non vedevo l'ora di parlarvene perché questi profumi sono andati abbastanza virali ultimamente nel web e non vedevo l'ora di provarli. Ho avuto la fortuna di poter provare tutti quanti i loro profumi e ne ho scelti due. Oggi ve ne parlo di uno, nel prossimo ve ne parlerò in un altro momento e questo è il brand Botanicae e questo è Highlands, quindi alto piano praticamente. Intanto queste sono boccette veramente veramente molto belle, molto di qualità anche il tappo e questo è un brand spagnolo di nicchia. Lo definirei abbastanza low cost, tra regolette nel senso che siamo intorno ai 90 euro per 100 ml che per essere un marchio di nicchia è un ottimo ottimo prezzo perché se tenete conto dei marchi commerciali ultimamente con 90 euro è tanto se vi prendete il 30 ml. E Highlands veramente mi ha rapito il cuore, è buonissimo. Non mi aspettavo che mi piacesse così tanto perché è un profumo soprattutto aromatico verde e fresco. Mi è venuta una voglia incredibile di utilizzarlo soprattutto in queste giornate più calde. Questo è un profumo aromatico legnoso a base di tè, muschio di quercia, ginepro, fieno, legno di cedro, è veramente un profumo stupendo. C'è una piccola parte di tuberosa che lo addolcisce leggerissimamente ma sinceramente io non sento la nota della tuberosa di per sé. C'è una piccola parte floreale bianca che si sente ma soprattutto le note che si percepiscono di sicuro di più sono proprio quelle del tè. Questo secondo me è un profumo unisex tendente al maschile perché non è assolutamente femminile come profumo quindi se siete donne amati profumi particolarmente femminili questo non è per voi ma se amate le note aromatiche di tè, muschio di quercia, fieno, legni, cose del genere questo di sicuro vi potrà piacere. Un profumo veramente rinfrescante, si sente molto questa parte di tè leggermente anche acquatica ma soprattutto anche appunto la parte di muschio, di fieno e di ginepro. Veramente è un odore quasi secco e asciutto che è proprio l'idea di queste piante aromatiche, questo odore erbaceo, legnoso. Allo stesso tempo però io lo ritengo proprio rinfrescante, fresco. Lo vedrei in realtà tutto l'anno questo profumo ma non è appunto assolutamente un profumo avvolgente, caldo, ambrato, assolutamente no. È proprio un profumo secco, asciutto, aromatico, legnoso. Mi fa impazzire, è buonissimo. Questo da uomo è veramente fantastico, io l'utilizzo senza problemi perché sapete che a me piacciono i profumi unisex, però devo ammettere che effettivamente l'odore ricorda un po' un tipico profumo maschile. Se vi può piacere questo stile Highlands è fantastico perché appunto è tè, erbe aromatiche, legni e muschio bianco. È veramente rinfrescante e super piacevole. Procediamo invece con uno dei profumi che sanno di pulito più buoni della mia collezione. Questo è 724 di Martin Francis Courjane e questo è proprio un profumo che sa di camicia bianca stesa al sole la mattina presto. Ricorda veramente grazie all'Eldeidi questo odore di bucato, di ammorbidente, di detersivo per i panni, cose del genere. È veramente buono, molto fresco. È quasi un odore freddo che veramente questo secondo me rinfresca tantissimo per l'estate. Si sente anche tanto il bergamotto, il pisello odoroso e il muschio e soprattutto appunto anche le Eldeidi dell'apertura. Se vi piace lo stile Blanche di Baeredo o cose del genere questo di sicuro vi piacerà. Sapete che io non amo le Eldeidi e qui non le sento così tanto, fortunatamente si sentono, lo rendono saponoso ma non danno quella tipica idea di vecchio o di vintage. È un profumo che veramente ricorda una camicia bianca stesa al sole o qualcosa del genere o una camicia bianca appena stirata. Il prossimo è un legnoso aromatico leggermente fruttato, questo è Under the Lemon Tree di Replica, Maison Margiela. È uno dei miei profumi agrumati, legnosi, più buoni, veramente lo adoro. Questo lo uso quasi solo d'estate però lo metto con l'odore di limone e lime, non è che mi venga troppo voglia di utilizzarlo d'inverno. Qui abbiamo il lime, il cardamomo, il petit grain, il tè verde, l'erba mate e del legno in asciugatura, anche il muschio bianco. È un profumo che per quanto sia agrumato e aromatico, rimane secondo me anche leggermente dolce. C'è questa parte di lime e limone quasi zuccherina che non è assolutamente amaro o aspro come odore, ricorda quasi sì un po' di lime o limone con sopra un velo di zucchero. E in più si sente molto appunto questa parte legnosa anche grazie al sandalo che effettivamente un po' ricorda lo stare distesi in una giornata d'estate col caldo sotto un albero di limoni. Scusate se vado un po' in fretta ma dato ve ne ho tanti, non voglio perdermi troppo tempo su ognuno. Un altro agrumato aromatico che adoro è Wood Essence di Diptyque. Questo veramente mi fa impazzire. Ho anche un travel size che mi porto spesso in borsa appunto per rinfrescare magari durante la giornata. E questo è un profumo a base di arancia amara, ginepro, fiore d'arancio e paciuli. Si sente molto questa parte amara appunto dell'arancia amara e anche del ginepro, un velo, c'è proprio questa parte aromatica. Però il fiore d'arancio leggermente lo addolcisce, si sente però appunto soprattutto la parte agrumata. Il paciuli lo rende leggermente più verde ricordando proprio l'effetto erbaceo e fresco e veramente essendo che è un profumo appunto amaro dà questa sensazione molto rinfrescante che quando fa super caldo è veramente fantastico. È un profumo secondo me assolutamente unisex, non lo vedo né femminile né maschile, proprio sta bene a tutti. Se vi piace però ovviamente questa particolarità, un velo amara di questo profumo. Passiamo un super economico, questo è veramente diventato uno dei miei preferiti di Zara in 321, Sunrise on the Red Sand Dunes. Questo credo che sia ancora disponibile, cercatelo però nella sezione maschile perché se non sbaglio questa collezione l'hanno fatta solamente nella sezione maschile appunto di Zara e questo è buonissimo, è un profumo principalmente a base di clementina e muschio bianco, quindi risulta fresco ma allo stesso tempo dolce. Quindi se volete un profumo fresco, agrumato, aromatico ma non vi piacciono i profumi freschi, agrumati, aromatici, volete comunque qualcosa di dolce dovete assolutamente provare questo perché grazie a questa nota appunto di clementina, se riesco a vedere dov'è lo spruzzino, è sì un agrume ma è comunque molto dolce e insieme al muschio bianco veramente è un profumo super piacevole. Purtroppo la durata è nì nel senso che ovviamente è un profumino di Zara, non possiamo pretendere troppo, dura poche orette direi sulle tre ore, forse quattro se ne spruzzate tanto, però è veramente buono, cioè mi è stupita un sacco, dà proprio l'idea di quando aprite una clementina o un mandarino e c'è proprio questo spruzzo di oli essenziali oppure tipo di un bagnoschiuma alla clementina perché in effetti si sente anche molto questa parte di muschio bianco, è veramente stupendo, rinfrescante, agrumato, pulito ma allo stesso tempo dolce. Stiamo veramente facendo review lampo. Procediamo con Sun Bleach di Unuino Mud, questo è un profumo fantastico, come potete vedere l'ho già utilizzato parecchio, l'utilizzo spesso ultimamente prima di andare a dormire. Io di solito faccio sempre la doccia la sera, d'estate la faccio anche la mattina perché crepo, ma normalmente la faccio la sera e quindi questo veramente la sera mi mantiene questo effetto di pulizia e non so perché mi piace un sacco. Oltretutto questo è perfetto anche se fatta la doccia la mattina perché veramente dà quest'idea anche rinfrescante e ricorda proprio l'odore di bagnoschiuma di sapone. Anche questo mi ricorda l'odore di panni stesi al sole, simile a 724 di MFK, però mentre quello, ve l'ho già detto un'altra volta questa cosa qui, è che è l'unica roba che mi viene in mente per differenziarli. Perché mentre l'MFK mi ricorda piuttosto un odore freddo, glaciale, quindi l'idea quasi anche di quando è inverno e aprite le finestre la mattina presto per far passare un po' di aria ed è proprio aria fredda che vi fa veramente saltare in piedi, vi sveglia fuori. Questo invece mi ricorda piuttosto l'aria fresca sì, ma in estate. C'è qualcosa di solare in questo profumo che non è assolutamente un profumo freddo come invece 724. Quindi qui piuttosto mi dà l'idea della classica immagine di panni, asciugamani, lenzuola stesi al sole in mezzo a un prato, in mezzo al grano d'estate, quindi comunque dove fa caldo, ma c'è questo buonissimo odore di bucato nell'aria. Grazie al bergamotto, i semi di ambretta, c'è anche un po' di spezia fresca grazie al cardamomo. In più dopo abbiamo la nota del lino, del muschio bianco e veramente sarà questa nota di lino che dà proprio l'idea di panni bianchi stesi al sole. Passiamo invece ad un bel fresco aromatico, uno dei miei preferiti, You or someone like you di talibru d'orange. Questo è veramente un profumo che io adoro e lo utilizzo soprattutto in estate, in realtà miscelato ad una vaniglia, spesso lo utilizzo anche in inverno per fare questo effetto di menta piperita, mentre d'estate ricorda proprio quasi l'odore di un mojito analcolico, perché non c'è assolutamente una parte alcolica, però veramente c'è questa parte di lime e di menta, mamma mia, pazzesco. Qui abbiamo menta pompelmo e bergamotto e poi in base invece delle note verdi e del muschio bianco. Ci sono anche dei fiori, in realtà io non li sento, mamma mia mi fa impazzire, sembra veramente di passare le mani sulle foglie di menta fresca e annusarvi le mani. È molto realistico questo come profumo, in più la parte aggrumata del bergamotto veramente lo rende ancora più fresco e rinfrescante. È un profumo quasi che io definisco refrigerante, perché veramente vi fa, vi abbassa la temperatura corporea praticamente. Ricorda veramente l'odore tipo di un mojito senza la parte alcolica, super rinfrescante, dissetante, con un sacco di ghiaccio e dello zucchero di canna, mamma mia, mi fa impazzire. Se volete un profumo alla menta, una menta comunque fresca e naturale, una menta verde, con anche questa aggiunta di agrumi e una parte pulita di muschio bianco, dovete assolutamente provare questo. Passiamo a un profumo sempre fresco, ma qui invece è a base di tè e abbiamo Dear Polly di Wilhelm Perfumery. Questo è uno dei profumi freschi più duraturi della mia collezione, perché veramente questo, magari non tutto il giorno, però alle 5 ore, 6 ore se le fa tranquillamente ed è difficile di solito trovare profumi freschi così duraturi. Questo appunto, come vi dicevo, è un profumo soprattutto a base di tè. In realtà io vi ho detto tè verde, anche se qui all'interno, se non sbaglio, c'è il tè nero, ma ha miscelato insieme alla mela verde, non so perché, mi dà proprio l'idea del tè verde, e quasi questo profumo, quando ce l'ho addosso da un po', mi ricorda quasi anche l'odore del sedano, nel migliore modo possibile, come se fosse, non lo so, l'odore di un frullato, di una centrifuga, dove avete messo, anche ad esempio del tè, non so come si potrebbe mettere una centrifuga, però questa è l'idea, della mela verde, del sedano, del finocchio, e è la cosa più rinfrescante, dissetante che avete mai bevuto. Se amate la nota del tè, ma volete appunto un twist un po' più fruttato con la mela verde, che comunque vi ricordo che è un odore abbastanza acidulo, non è assolutamente un profumo dolce, zuccherino, vi consiglio di provare a dire polli, è veramente uno dei profumi al tè che preferisco. Nel prossimo non mi perdo troppo tempo, perché ve ne ho parlato nell'ultimo video, e questo è Jou Parfum Gingerly, quindi vi rimando al mio ultimo video per una recensione più completa, questo è più che altro un profumo allo zenzero, è veramente un profumo rinfrescante, dissetante, lo adoro, mi fa impazzire, e qui oltre allo zenzero abbiamo anche una parte di citronella, una parte verde, aromatica, se non sbaglio, anche qui c'è anche la menta, è veramente fantastico, abbiamo anche qui in base del muschio bianco, e risulta proprio, so che sto dicendo le stesse cose per tutti questi profumi, ma sono tutti quanti più o meno nella stessa lunghezza d'onda, perché anche questo risulta veramente dissetante, rinfrescante. Questo lo consiglio nelle giornate più calde, se poi amate in realtà gli aggrumati ve lo consiglio anche tutto l'anno, ma io personalmente non so quanto lo userò in inverno. È soprattutto un profumo bello, fresco, speziato fresco appunto grazie anche allo zenzero, e poi questa parte aromatica e aggrumata. Ultimo ma non per importanza, estate italiana di Federico Cantelli, questo è un profumo favoloso, mi piace tantissimo, anche qui mi dà proprio l'idea di una tipica estate italiana, per quanto cliché possa sembrare, in mezzo a un campo, non lo so, a un prato, ad una collina, dove anche qui vedete dei panni stesi al sole. Questo è un profumo aromatico, anche qui muschiato in base e aggrumato. Abbiamo anche una buona dose di lavanda all'interno, che però non ricorda l'odore dell'olio essenziale di lavanda, non preoccupatevi, è miscelato molto molto bene. E c'è proprio questa parte aromatica che veramente sembra di essere appunto in un prato, in una collina, dove sì avete anche i panni stesi al sole bianchi, possibilmente, però avete anche a fianco un orto con le piante aromatiche, qualcosa del genere. Quindi avete sentito un po' l'odore del basilico, del rosmarino, dell'erba, del fieno, del legno, la lavanda, cose del genere. È veramente buonissimo, super solare, rinfrescante, fresco, leggermente aggrumato e pulito, perfetto per l'estate, fa veramente sognare. Bene, questi erano tutti quanti i vari aggrumati, aromatici, freschi, rinfrescanti per l'estate. Di più volevo parlarvi oggi, fatemi sapere perché probabilmente ne ho altrettanti da fare anche una parte 2. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata. Ciao ciao!